Non accettava la fine della loro relazione ed allora un 22enne di Foligno, figlio di buona famiglia, volto noto in città, residente nelle adiacenze del centro storico, ha cercato con ogni mezzo di salvare quella storia con una ragazza di 18 anni di fossato di Vico che lo aveva lasciato da qualche tempo, non ultimo ricorrendo, secondo l'accusa, ad SMS con minacce di morte e pesanti insulti. Un caso di stalking che martedì scorso ha avuto il suo epilogo con l'arresto del giovane attualmente detenuto a capanne. Lo scorso martedì la diciottenne di fossato aveva ricevuto un SMS dall'ex fidanzato che le faceva temere il peggio. Ai carabinieri contattati poco dopo dalla madre, la ragazza aveva detto che il giovane sarebbe arrivato da lì a poche ore a fossato con l'intento di ucciderla con un coltello, un'ipotesi che alla diciottenne era sembrata plausibile visto che in precedenza, sempre da quanto riferito alle autorità, il giovane avrebbe tentato di colpirla con la fiocina di un fucile da sub. Da lì l'attivazione da parte dei carabinieri di fossato di Vico che hanno approntato due squadre, una in borghese che ha atteso il giovane alla stazione pedinandolo fino all'arrivo presso l'abitazione della ragazza, l'altra che si è nascosta dentro l'appantamento. All'arrivo il 22enne Folignate ha suonato alla porta e malgrado l'invito della mamma di lei ad andarsene è entrato cercando subito l'ex fidanzata. L'intento, secondo quanto riferito dai carabinieri, era quello di aggredirla. A quel punto sono intervenuti militari che hanno bloccato il ragazzo traducendolo in caserma. Per lui è scattata l'accusa di stalking, minacce aggravate di morte e resistenza pubblico ufficiale. Il PM Duchini, vista la gravità dell'accusa e i precedenti del giovane, già segnalato all'autorità giudiziaria, ha predisposto l'arresto in carcere in attesa di giudizio.